Chiara Ferragni, treccia e splendido beauty look per Evian Ancora un beauty look e un air stile super raffinati per Chiara Ferragni, che sfodera una treccia molto chic all'evento organizzato per Evian e per la sua personalissima collezione di moda, appena inaugurata a Milano. Chiara Ferragni Collection X Evian, la classe, non, è acqua. Da ora in avanti persino l'acqua in bottiglia vi ammiccherà. Di cosa stiamo parlando? Di Chiara Ferragni, ovviamente, che ha firmato una sorta di capsule personale per Evian. Che non è una griffe di moda, come tutti sanno, ma un celeberrimo marchio d'acqua francese. La fashion blogger più in del momento, poi, si reca all'evento con un classico charme parigino, su tutto il look, spicca la lunga treccia bionda e laterale, che spunta da sotto il basco dalla fantasia a scacchi grigi. Per l'occasione, Chiara abbina un trench della stessa tinta del copricapo, mentre l'outfit, al di sotto, è total black, con lunghi skinny pants con frange sulle caviglie e un paio di vertiginosi sandali bordeaux firmati Chiara Ferragni Collection. La sua linea di accessori e capi d'abbigliamento taglia un traguardo dietro l'altro, dopo la grandissima inaugurazione a Milano durante la settimana della moda e la promessa di aprire altri flagship store nel mondo e soprattutto in Cina la Ferragni in anella a una nuova collaborazione. La classe, del resto, non è acqua e a parte in questo caso, dove le finissime bottiglie di Evian si rivestono del magico e glitterato occhiolino dell'influencer, che tramuta in oro ogni cosa che tocca. Una grande folla la aspetta all'evento, durante la Paris Fashion Week, e Chiara si concede come sempre ai suoi fan con selfie e scatti, proprio come ha fatto a Venezia 74, dove ha posato con i suoi ammiratori avvolta in un meraviglioso vestito sposa style. . Chiara Ferragni si prende una piccola pausa?. Ogni tanto è bene staccare la spina e ricaricarsi, proprio quello che sta facendo in questo momento Chiara Ferragni, insieme alla sorellina minore, che è venuta a darle man forte a Parigi, si è concessa una giornata di totale relax. . Le due tornano bambine per un giorno e vanno a Disneyland Paris, il parco di divertimenti più ambito da tutte le piccole aspiranti principesse del mondo. . . In uno dei video sulle Instagram Stories, Chiara e Valentina si stanno proprio incamminando verso il leggendario Castello delle Fiabbe, ma la maggiore, sembra maggiormente attirata dal mini style che a quello da principessa. . . In realtà, con quella lunga treccia bionda per Evian, Chiara ci ha subito ricordato la bellissima Elsa di Frozen. Ma la Ferragni, per oggi, varia e indossa un fantastico e gigantesco fiocco fucsia, con i tipici pois bianchi. . La neo trentenne viene seguita a ruota dalla sorellina venticinquenne, che posa con lei per una foto di Rito insieme al re dei cartoni animati vintage, ovvero Topolino. . . .